e siamo tornati benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi shogari benvenuti e bentornati ragazzi bentornati oh ragazzi mi siete cioè mi siete questo tema ci è mancato tanto perché ragazzi come avete letto dal titolo oggi torniamo a fare il gameplay di Genshin Impact ragazzi Genshin Impact dove sinceramente non ricordo molto a che punto mi sa che è il punto che avevo ero riuscito a superare quella missione che non gliela facevo ragazzi e quindi oggi ragazzi nuovissima missione nuovissimo gameplay ma prima di iniziare ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella mettere like, commentare fa tutte le cose che devi fare sempre dai e ci dai e quindi ragazzi iniziamo subitissimo questo questo nuovo gameplay con un'altra missione che ci aspetta ora su Genshin Impact speriamo speriamo innanzitutto che non ci siano troppi lag ok cosa che purtroppo credo di trovarne ma speriamo di no ragazzi speriamo di no perché sto gioco non ha fatto tanti lag come come fece l'ultimo gioco Fortnite diciamo quello Fortnite è proprio il king dei lag diciamo qua l'altra volta non ha fatto tanti lag speriamo che continua così ok allora andiamo avanti qua intanto sta qua intanto sta caricando allora vediamo allora vediamo questo so so io questo Raptor Hidden South credo che credo che è questo il punto vediamo qua sto tipo in una pallata però qua mi dice ti devi andare qua mi dice contro una roccia bah che succede Raptor Hidden Out che succede qua reward for courage vabbè questi sono i miei personaggi Kiwi Ramber Kaiella Kaiella Lisa beh iniziamo iniziamo vediamo che sta dovrebbe essere un'altra missione credo perché di solito iniziano così le missioni di solito allora vediamo è infatti infatti è iniziata la missione che ovviamente si parla si scrive in inglese ragazzi facciamo una petizione tutti noi giocatori di Genshin Impact diciamo famo qualcosa a questi per fai a meno le scritte in inglese per favore raga per favore qua andiamo avanti perché non sto capì niente sto capì cosa ti dice watch me nile watch me nabu un batto così ho fatto allora qua che dice questa scompare cosa si dà dopo volare e lanciagli schivare le frecce che mi arrivano e lanciagli le bombe credo così da quel poco che ho capito vabbè e quindi basta credo che basta solo che lanciarsi se non mi ricordo male si lancia e si clicca due volte qua credo vediamo esatto qua ci sta il geyser che mi fa volare e lancio le bombe vediamo e tutti uccisi no no fate veloce almeno le bombe queste bombe così si fanno veloci questo dovrebbe essere quello che fa resuscitare i personaggi credo credo però mi sa che non fa niente mi sa che è rotto sto coso boh non fa niente questo è il menu questo è il menu questo che è queste sono le cose da comprare che non ci interessa questo è il libro il libro degli amuleti che non ci interessa vabbè vabbè andiamo avanti se no qua mi blocco devo devo volare devo volare tramite tramite cosa volo io tramite così vai le bombe buttiamogli le bombe buttiamogli che non ho fatto in tempo usiamo la mia solita tecnica no vabbè volamo volamo famo tutto corvolo vediamo se la faccio vediamo se la faccio corvolo e espia a posto bruciato l'amo bruciato qui chi è che continua a lanciarmi schicchiere le cose devo lanciargli le bombe a questo sennò non capisce lanciamoli tutte le bombe tutti così i bombardamenti continuano tutti bombardati se niente qua qua continuano a lanciarmi le bombe ecco stronzo che mi lancia le cose oh cazzo poi mi lancia le cose mi lancia mortaccio tanto qua mi stanno a lanciare mi stanno proprio ad ammazzare qua mi stanno proprio a sdrumare intanto me so bloccato con l'hug che ovviamente non poteva non mancare qua devo volare raga volamo vediamo che mo gli faccio gli faccio il culo a questi qua mo allora ah se se mi avvicino troppo al muro non gli lancia se mi avvicino troppo al muro vedi bomba te la lancia a te la bomba qua devo volare di nuovo credo quindi torniamo verso il geyser e famo se sta volata allora vediamo se è troppo vicino non mi fa lanciare devo farlo volando devo fare devo farlo volando come dice a missione ce la farò allora vediamo se ha volato ha volato vogliamo di nuovo devo cercare di fare il mega il mega botto colpendo le botti con le esplosive raga li ha farò li ha farò si ti è va che roba brucia tutti i bruciati li avrò uccisi tutti che dite raga ce l'avrò fatta a voglia a voglia guardate non c'è nessuno a posto qua hanno fatto tutto cos tutto cos qua hanno resuscitato resuscitiamo qualcuno non funziona qua questi anelli in cielo che sono questi anelli in cielo non capisco cosa siano e qua non c'è sta niente devo volare e vogliamo dove devo andare però dove devo andare fatemi capire resurrection attivata ah mo mo se ti va sei ricordata tardi vabbè qua che devo fare mi devo aggrappare no diciamo di no retry from door of resurrection ritorniamo alla porta della resurrezione e qua ci stanno di nuovo i stronzi che mi sta mortaccio non ho imparato niente devo devo volare lì di nuovo ma spero ma questa è in un'altra parte vedi ah ecco gli devo lanciare di nuovo le bombe come abbiamo fatto prima lanciamoli tutte le bombe qua la vedo li vedo belli agguerriti stavolta a posto si tutte bombe tutte bombe tutte bombe e bombe 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 e bombe 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 niente questa sta proprio nella tana sono entrato e vola c'è sta nella tana li devo bruciare tutti con la mega esplosione tieva che esplosione gigante che ho fatto e qua l'amo finiti tutti pure con le mega esplosioni pure da lontano amo piato vabbè e quindi dove vanno elemental reaction dove vanno fammi vedere qua si è attivata amber si è attivata si è attivata amber perché amber qualcosa che è frecce forse perché questa è arcera che devo fa' qua non è che mettono delle istruzioni vai dritto vai fai questo cioè manco in inglese te mettono proprio così te lasciano all'avventura te lasciano qua credo che devo volare credo credo proviamo vedere che succede sì credo che era giusto da qua credo porta della risurrezione attivata risuscitiamo qualcuno intanto come stanno a sparare di nuovo conferma lisa vediamo niente questo sempre poco intanto come sparano e lisa se la siamo giocata torniamo ad amber torniamo perché qua mi sta a sparare contro chi è che mi sta a sparare contro sto tizio qua sopra vedi allora se lo colpisco da solo che succede non succede niente non succede non trova una soluzione intanto mettiamo si qua e riflettiamo riflettiamo sta porta si dovrebbe aprire credo credo se dovrebbe aprire in qualche maniera no ma come si apre sta porta vabbè intanto devo ammazzare quello perché abbiamo capito devo ammazzare quello che però non fa niente devo trovare una soluzione se no così non se ne usciamo non se ne usciamo più devo trovare allora famo da qua da qua così dovrei colpire la botte così esplode tutto giusto ok niente non va perché sta star muretto davanti sta prendiamo una mira devo far veloce raga devo far veloce subito se no qua niente non ho colpito la botte vai cartaccio colpi la botte ah liamo fatta raga liamo fatta infatti si è aperta la porta perché era quello che faceva aprire tutto vabbè quindi andiamo a questo qua dentro non c'è niente allora vediamola quelle non sono botte esplosive se lo sono non le colpirò vediamo qua che c'è sta qua qua devo diamogli fuoco perché qua ho visto che c'è sta qualcosa tipo un baule magari c'è qualcosa che ci può servire intanto qua non c'è sta nessuno che ci sta a lanciare frecce contro entriamo con keyword e common cast apriamo a cosa ah quante belle cose gemme ali di pollo vabbè andiamo piamo tutto piamo travel doctor vabbè allora queste sono le casse magari c'è qualcosa dentro le casse proviamo proviamo vediamo se sta dentro l'onda energetica niente vediamo questo mi è simpatico perché lancia le onde energetiche questo qua allora andiamo avanti andiamo avanti e vediamo come ce ne dobbiamo uscire da qua allora qua c'è sta una piscina magari mi posso fare una nuotata che dite raga mi faccio una nuotata che dite vabbè vabbè che dinamone fiamo se sta nuotata magari riesce ad entrare sott'acqua e forse devo andare sott'acqua e spingerlo sott'acqua può essere no mi sa che sott'acqua non ce va proviamo a andare sott'acqua no non va proprio sott'acqua non va ho trovato una soluzione no che tanto sta per morire se muore va tutto a capo allora credo ecco vedi ci stanno i cosi che ti dicono là sopra quindi credo che dovrei colpire quei cosi là forse giusto si e allora vedi bisogna togliere i sigili da lì sopra ma dillo più chiaramente cioè mi devo forgi mi devo cervellare io a fare ste cose ok e intanto l'acqua è scolata vedi intanto l'acqua è scolata e apriamo open the door open the door che cosa ci sarà mai dietro la porta tanto tesoro o la morte cosa che è molto probabile la seconda infatti vedo dei tizi belli pronti agguerriti guarda vada come stanno devo colpire la botte di esplosiva boom vedi botte esplosiva colpita uno questo mi stira e schicchere mi tira il boss finale mi tira le schicchere uno due no non va non sono riuscito a colpire le botte esplosive la scorciatoia per ammazzare tutti velocemente allora come famo vediamo devo fare veloce devo fare allora botte esplosive abbiamo fatta vai boom secondo secondo fuori botte esplosiva ecco magari se faccio prima che mi colpisce boom tutto fuori tutto fuori ok quindi è rimasto soltanto il boss finale che mi tira le schicchere li mortecci sua allora boss finale porta resurrezione attivata intanto questo lo famo fuori lo devo far fuori in qualche maniera perché così se ah il caro vecchio kiwir non 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 smentisce mai vedi ma sbaglio se sono ripresi altri altri mostri sono usciti li mortacci su sono usciti altri mostri che mi stanno a corpire allora qua bisogna pensare allora torniamo su lisa ma come li avevo ammazzati sono tornati di nuovo in vita quegli due no vabbè raga allora qua c'è qualcosa dove avevo tolto dalle botti ma sono tornati in vita allora qua che famo sono tornati in vita quelli là sono tornati allora lancio la bambola così magari colpite la bambola e io intanto colpisco il boss è uno fuori lanciamo la bambola vediamo no qua c'è sta c'è sto cosa di pietra che non mi fa andare avanti non mi fa andare lanciamo la bambola e voi colpite lei che io vi colpisco a voi niente questo mi ha sgamato questo è furbo poi mi ha sgamato che stava bambola gonfiabile la allora devo fare veloce devo fare perché sennò qua non non ne usciamo più non ne usciamo allora qua non è uscito nessuno perché caiella mi sarebbe mi sarebbe servito oppure anche lì mi sarebbero state di aiuto in questo caso però evidentemente no non era cosa da usare questi devo sto coso mi tirà le schicchiere allora devo pensare conferma caiella conferma questa conferma se ma ci vuole un botto caiella questa caiella con una cosa mi ammazza subito mettiamo con kiwir allora con kiwir vediamo vediamo come possiamo fare siamo la cosa più grossa di tutti e abbiamo fatta credo che credo di avercela fatta credo contro la buono qua c'è ancora qualcuno che mi sta a tirare contro le cose a bolla contro la bolla d'acqua no questa l'onda energetica manco faccio in tempo a fargliela intanto ho vinto contro la bolla allora è rimasto soltanto è rimasto soltanto il boss finale che mi tira le schicchere quindi torniamo in amber e vediamo come posso fare lo fa veloce prima che mi colpisce lui uno devo fare veloce prima che mi colpisce lui quindi mettiamo se qua sotto e così non mi può colpire perché se sta là sopra o scende se scende lo ammazzo con kiwir se no si rimane là devo tirare una freccia senza che mi fa mi faccio sgama vediamo vediamo ma che cazzo allora 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 vediamo la farò qua poca roba quasi niente niente oh raga non 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 mi devo far corpita normalmente mi tira la schicchiera vai finito ma mi sa che l'ho ammazzato oh mi sa che ce l'ho fatta ah finalmente io ho fatta finalmente io ho fatta dai allora apriamo apriamo il quadrato il cubo activate corrente ah vedi attivata corrente attivata corrente volante la corrente volante il geyser quindi se vogliamo da qua cosa succede volare 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 oh oh dove vado oh oh vado da qua dai proviamo da qua allora vediamo qua ci stanno sti due stronzi entriamo con kiwir e questo è bello potente vai vai tutte e due colonna energetica ma c'è un'idea raga questi c'è un'idea se funziona raga sword king se funziona vai 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 tutte e due così tutte e due colonna energetica tutte e due ma bello raga bellissimo io ho fatta due in un colpo solo con un'unica mossa zippo open the door apriamo apriamo perfetto allora qua credo che devo volare quindi rientriamo in amber e voliamo dove devo andare però se volare dove devo andare dove devo andare fammi vedere beh qua chi è raptor m'ho chiesto raptor vabbè andiamo avanti raga non ce sto a capire niente non ce sto a capire niente raga andiamo avanti oh ma mi sa che deep battles let Simon rio surround boom fiamo surround andiamo avanti meccanism some kind raptor bye bye chi 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 raga scrivetelo nei commenti se avete capito cosa sta succedendo perché io non ce sto a capire niente sto andando completamente a caso clicco così questa questa qua che dite boh vabbè sto andando completamente a caso vediamo cosa succede go go si no ma go go raptor quindi credo che sia iniziata una nuova missione però ragazzi siccome è durato troppo sto video io direi che vi lascio qui vabbè vabbè ragazzi quindi chiudiamo tutto quindi prossima missione prossima missione andrà vedremo cosa vuole raptor vabbè ragazzi quindi avete visto sta sta missione così un po' particolare un po' strana era molto sta missione era molto logica e molto logica sì perché dovevi capire a tirare la freccia là sopra così oltre al fatto che le scritte in inglese non ti aiutano proprio quindi bisogna trovare una soluzione ragazzi se voi avete trovato la soluzione alle scritte in italiano per favore ragazzi scrivetelo qua sopra qua sotto e fatemelo sapere vabbè ragazzi quindi noi invece ci vediamo al prossimo video alla prossima missione perché torneremo venerdì prossimo con la prossima missione di raptor vediamo sto raptor cosa vuole e niente ragazzi quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video chocari